Per costruire delle maracas con oggetti casalinghi ci serviranno righello, matita, forbici, colla universale, carta da regalo o carta fantasia, elastici, rotoli di cartigenica, carta stagnola, riso o legumi, pietre o conchiglie. Cominciamo misurando il diametro del rotolo della cartigenica e riportiamolo aggiungendo qualche centimetro in più sulla carta stagnola per ben due volte. Ritagliamo e otteniamo così dei quadrati di questo tipo. Analogalmente prendiamo le misure intorno del nostro rotolo e le riportiamo sulla carta da regalo. Aggiungiamo sempre qualche centimetro per sicurezza, ottenendo così una fascia di questo tipo. Quindi prendiamo la colla, la portiamo su di essa e con pazienza la incolliamo intorno al nostro rotolo facendola aderire molto bene. Riprendiamo i due pezzi di carta stagnola che avevamo già realizzato e ne apportiamo uno su una delle due aperture del nostro rotolo avvolgendolo con un elastico. Prima di chiuderlo dall'altro lato prendiamo del riso o dei legumi o delle pietre, delle conchiglie e ne mettiamo in quantità all'interno. Quindi chiudiamo anche l'altra apertura nello stesso modo. Ed ecco pronta la nostra maracas. Buon divertimento!